Dal Vangelo di Marco Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Sorelle e fratelli carissimi, inizia il nuovo anno liturgico. Con la prima domenica di avvento entriamo in questo tempo nuovo. Tempo che è sempre nuovo perché è Gesù la novità, ma che quest'anno lo è in modo particolare perché viviamo l'inizio di questo nuovo anno liturgico ancora in piena pandemia. L'Abruzzo, come sapete, è ancora totalmente zona rossa. E in questo tempo così particolare il Vangelo di Gesù, la buona novella che egli ci lascia, ci invita a vegliare. Il tema della veglia ci collega anche alle ultime domeniche dell'anno che abbiamo appena trascorso, in cui nelle domeniche ci ha fatto compagnia il Vangelo di Matteo, mentre in quelle di quest'anno ci farà compagnia il Vangelo di Marco. Vegliare è restare svegli. Vegliare è avere gli occhi aperti. Vegliare è non lasciarsi distrarre da tanti diversivi, da tanti surrogati. Vegliare è prestare attenzione a ciò che più conta, a ciò che resta. Vegliare è sapere cosa rimane alla fine di tutto. E il Vangelo, parlandoci di Gesù che ci viene incontro, così come noi andiamo incontro a Gesù, ci suggerisce che ciò che rimane, ciò che davvero conta, è l'amore. È ad esso, all'amore, alla misericordia, che noi dobbiamo prestare attenzione. Gesù, infatti, ci si presenta come lo sposo che viene incontro alla sua sposa. Gesù ci chiede di essere pronti come un'innamorata è pronta all'innamorato che le va incontro. Gesù, in questo tempo, ci lascia lo spazio, la casa nella quale siamo chiamati ad operare, ciascuno secondo la sua vocazione, ciascuno secondo i suoi doni, i suoi carismi, e ci lascia a ciascuno un dovere, un compito da esercitare fino in fondo. Non pensiamo allora a questo tempo come una penitenza, ma come una grande opportunità. L'opportunità in cui, seguendo la propria chiamata, io da sacerdote e vescovo, voi da laici, da laiche, da sposi, spose, genitori, lavoratori, siamo chiamati a portare avanti. Ecco, l'attenzione, il tendere a, facendo attenzione a ciò che il profeta Isaia ci ricorda, cioè che non è tanto lo sforzo da parte nostra di andare verso il Signore, di salire al cielo, ma è il Signore che ci viene incontro, che squarcia i cieli e scende, che si fa nostro compagno di viaggio e nostro Salvatore, donandoci, come dice San Paolo nella seconda lettura, la sua grazia di cui dobbiamo far tesoro. Allora, giorno per giorno, vivendo la misericordia, esercitando l'amore nel concreto della nostra vita, accogliamo la venuta del Signore, tendiamo con gioia, con gran desiderio, a questo incontro con Lui, il nostro Salvatore, lo Sposo che viene.